Musica Cari amici ben ritrovati, vedi il territorio quest'oggi è a San Pietro di Barbozza una piccola frazione del comune di Valdobbiadme ma che come ogni anno va a festeggiare il ringraziamento poi sentiremo il don per quanto riguarda la parte religiosa ma per quanto riguarda la parte ludica e culinaria abbiamo qui l'organizzatore Luigi Buane Luigi grazie di averci invitato raccontaci un attimino cosa succede in questa giornata particolare allora niente questa è una giornata particolare che noi facciamo appunto ogni anno appunto il ringraziamento questa appunto festa viene fatta tramite tante associazioni del posto tra cui c'è la Proloco, c'è l'Avis, c'è il Boss de Accurta e i cacciatori e gli alpini mi raccomando anche gli alpini quindi di conseguenza questa festa viene fatta in ricorrenza al 10 sempre di questo mese per fare un po' un evviva alla nostra zona che è molto bella e di conseguenza questa zona viene percepita da molte persone saremo quasi un 150 persone e con questo viene fatto un pranzo ovvero a chilometri zero cioè prodotti nostrani, prodotti nostri quindi altro non posso dirvi, vi dico solo un evviva e grazie a tutti voi abbiamo visto prodotti chilometro zero valdo biare di OCG a fiumi spiedo dell'alta marca soppressa, polenta e formaggio e torte delle nostre mamme fatte veramente in casa quindi a livello proprio artigianale Don Romeo è una festa, quella di ringraziamento che dal punto di vista religioso significa per il contadino ringraziare il nostro Signore per tutte le culture e i raccolti avvenuti durante l'anno sì, senz'altro è una festa in cui ringraziamo il Signore che ci guida con la sua provvidenza lo ringraziamo per tutti i prodotti della terra ma anche una festa che ci provoca innanzitutto a usare sempre di più i prodotti della terra in modo sempre più naturale che rispetti l'ambiente e poi anche ad aprirci alla solidarietà di chi ha meno di noi e questo è molto importante un altro aspetto per cui questa festa qui nella nostra comunità è importantissima è perché è organizzata da tutti i gruppi associazioni presenti nelle comunità ed è un modo di trovarci assieme di vivere anche la fraternità e di crescere bene come persone come comunità cristiana è uno spazio di gratuità in cui ti si incontra si relaziona con gli altri in maniera bella e si cresce anche proprio come comunità cristiana e si fermi a tutti i nostri spazio di vivere anche noi Grazie per la visione!